Oggi siamo in piazza con i pensionati di Campania, Basilicata e Calabria per dare un primo segnale tangibile del nostro no all'autonomia differenziata. A parlare il segretario generale della CGL Napoli e Campania, Nicola Ricci, che ha partecipato al presidio in piazza del plebiscito promosso dallo SPI CGL contro il DDL Calderoli. Va costruita, secondo Ricci, una grande mobilitazione nel paese partendo dalle fasce più deboli. Ascoltiamo. Tra le battaglie in questi anni questo governo ha deciso di accelerare e lo fa in modo sbagliato perché si autora il Parlamento e interviene ovviamente su una parte consistente delle popolazioni come quelle del Mezzogiorno che hanno grandi disagi, grandi disequaglianze. Alla manifestazione anche il segretario generale dell'ospice GGL Campania Napoli, Franco Tavella, per respingere questo scelerato progetto che viene definito autonomia differenziata, le sue parole. Perché ricrea ancora più problemi di quelli che il Mezzogiorno ha. La sanità, i trasporti, la scuola. Questa è la secessione dei ricchi ed è una condizione per rispondere a qualche forza politica, ma non è la condizione per rispondere al paese e ai cittadini del Mezzogiorno. In piazza questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, davanti alla sede della Regione Campania, invece i lavoratori degli stabilimenti della DEMA di Somma Vesuviana in provincia di Napoli e della CAM di Paolisi in provincia di Benevento, per chiedere un intervento fattivo dell'istituzione regionale sulla vertenza. Ai nostri microfoni Luigi Davino, RSU, UILM, DEMA Somma Vesuviana e Angelo Iaconiello della FIMCISL Napoli. Questa azienda ha come proprietario di un fondo, il fondo Polus, Polus Capital che fa capo a Mediobanca. Sfortunatamente per noi domani questo presenterà un piano al Tribunale di Napoli di un concordato in bianco. Non c'è stato verso di farglielo cambiare, la cosa più grave, nonostante gli incontri ministeriali, questo non ha fatto sapere ancora qual è il piano. La Regione si è impegnata a mettere in campo tutto quello che lei può mettere in campo. E' chiaro che questa è un'azienda privata gestita da un fondo privato e quindi la Regione ci ha detto molto chiaramente che essendo un privato lei può fare poco.